E' atteso, un piccolo ospite che tutti amiamo, ormai amico di Spazio Musica, amico mio, amico di tutti, partiamo con un R.V.M. Vi ricordo che questa serata è offerta gentilmente da i nostri amici Deco e Spazio Musica Ricordi. Musica 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 Ah, ci abbiamo un'altra valletta stasera, Fatima Zoglio, che accompagna il nostro amico Nicolas, ecco qua, è arrivato il più grande, Nicolas, prendi il microfono dai, facciamoci due chiacchiere, va bene, va bene, parlaci un po' di questa esperienza che hai fatto a io canto, la cosa più bella, la cosa che ti ha colpito di più, ah, sediamoci, ci danno anche lo sgabello, guarda che bello, proprio come se fossimo in televisione, però io non sono Gerry Scotti, aspetta, dov'è, dov'è, vabbè, sono Nicolas, grazie, allora, facciamo così, parlaci prima di questa esperienza bellissima che hai fatto a io canto, così tutte le persone ti conoscono meglio, la cosa più bella che ti è capitata, mi sei fidanzato con qualcuna? no, no, con Sara Musella, no, c'è una simpatia però, eh? sì, ah, ti ho scoperto, poi mi hanno detto che sei giuventino, giusto? no, no, milanista, ah, sei milanista, e dimmi un po', qual è il tuo cibo preferito? la conna di manzo e hamburger e patatini fritte ma sei tornato da una vacanza, dove sei stato? a mare a mare? però non ti sei abbronzato per niente, Nicolas, sei biancuccio, ma come mai? boh boh, sei stato al sole, sei stato in acqua? sì Nicola, ma che, la sera sei un po' triste, no? no lo sai che l'altra volta mi è piaciuto tantissimo duettare con te, quando abbiamo cantato quella canzone, ti ricordi? sì quale canzone abbiamo cantato? a te la vogliamo rifare? sì eh? lo fai questo regalo? sì maestro, è possibile avere questo regalo? a te a te, sì, a me, a me, Nicolas, la canzone è a te, ci presentiamo da soli Anna e Nicolas, cantano a te a te che sei l'unico al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro quando ti guardo per un giorno pieno di parole senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro a te io canto una canzone perché non ho altro niente di meglio da offrire tutto quello che ho venito a dentro la macchina anche con un sogno salto ci va volare dentro l'aria come bollicine a te che sei semplicemente sei compagno dei giorni miei compagno dei giorni miei a te che sei essenzialmente sei sostanza dei sogni miei compagno dei sogni miei compagno dei sogni miei a te che sei Anna, dimmi ma c'è che stasera sia bellissima grazie mi fa torsire ora devo buttarmi il ghiaccio sul viso allora facciamo una cosa adesso ci canti una canzone tutto solo? sì che canzone ci fa ascoltare? Tu vuoi fare l'americano tu vuoi fare l'americano, ah guarda c'è anche la coppola per te tu vuoi fare l'americano seguito dalla band di Spazio Musica Ricordi Nicolaus Porto Porto che sono a cui non stai maledio una coppola una coppola che mi intera e sanno passi scampagnando col tu legno con mano a pavote fa guarda tu vuoi fare l'americano tu vuoi fare l'americano americano 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 seguito dalla band di Spazio Musica Ricordi vuoi vivere alla moda ma svevi picchiazzola potenti ci fa tu vuoi fare l'americano gioco la band di Spazio Musica Ricordi gioco la band di Spazio Musica Ricordi gioco la band di Spazio Musica Ricordi tu vuoi fare l'americano con mano a pavote fa guarda con mano a pavote fa guarda si trova l'americano quando ci ha l'amore sotto la luna con mano a pavote fa guarda tu vuoi fare l'americano americano americano seguito dalla band di Spazio Musica Ricordi tu vuoi vivere alla moda ma svevi picchiazzola potenti ci fa può fare l'americano non capelli di Spazio ma giochi per sapere interità la boccezza di mamma tuo pal americano 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 ma sei da lì ti ha capito non sta niente ma o sei una pulita tuo pal americano tuo pal americano which can't show the rock and roll which can't show the rock and roll which can't show the rock and roll tu vuoi fare l'americano tuo pal americano Ancora Tu fai l'America Bravissimo Nicola, sono tutti diverti il pomeriggio Quando vieni a Spazio Musica a cantare Con la maestra Alessandra Brava o è cattiva la maestra Alessandra? Brava Dopo ci puoi ascoltare un altro pezzo? Sì Allora vuoi ringraziare anche tu la Deco che ci ha permesso questa serata qui? Sì Dai ringraziamola insieme Ringraziamo Deco Deco Che ci ha ospitato qui Che ci ha ospitato qui Bravissimo Ciao Nicola, saldotto Ed è la volta di un altro studente di Spazio